vediamo che si dice su youtube live streaming wow che figata bene veramente bene aspetta aspetta com'è sto fatto che che nessuno mi ha detto niente so io a chi chiedere che sa veramente qualcosa forza parla di tutto quello che sai su questa live che c'è che io non so micchia forza parla parla dimmi tutto veramente bene adesso tieni fuori tutto il rospo no tieni fuori tutto il papero no tutto tu come la vedi non so niente io non so niente non so niente io aiuto aiuto allora sei te allora sei te vuoi parlare devi spottare tutto il rospo devi dire tutto quello che sai su questa live quando è quando non è con chi la facesti perché la facesti che mingapulesti ah palla viceritto cioè fammi capire veramente bene nel senso che noi adesso facciamo questa live io con altra gente facciamo questa live su youtube con questi nerd attack out player dico bene dico veramente bene non so che dico bene quello che c'è a grossa crisi qua sei te no io guarda che sei te che ci stai attraversando un momento drammatico e c'hai a grossa crisi no io ecco comunque per capire veramente bene cioè faccio la cioè mi trovo mi trovo su youtube con questi amici poi c'è anche i non siamo nabbi e che so se non sono nabbi ok va bene e poi c'è anche v v kumbra no aspetta non credo ma vedo veramente bene cioè fammi capire che noi veramente siamo lì dal vivo e perché gli altri che sono là che so da morti cioè noi siamo da vivi e loro che so da morti so fammi capire veramente bene perché c'è grossa crisi il momento è drammatico praticamente brancolino il buio così ma ve lo spiego io subito quando facciamo questa live venerdì 3 ottobre ore 21.30 su youtube il mio primo live streaming quindi ragazzi non manchiate ho deciso di farlo con questi ragazzi perché se no mi sentivo solo è un po' come quando c'è ciccio pallacchio che mi cerca in outlast c'ho veramente grossa crisi per cui fatevi trovare sicuramente sarà una serata veramente esplosiva ci divertiremo passeremo un po' di tempo insieme ci conosceremo scambieremo le opinioni i nostri progetti quello che vogliamo fare sui nostri canali ci conosceremo voi conoscerete noi e noi conosceremo voi passeremo insieme del tempo ci divertiremo quindi ricapitolando ci vediamo venerdì sera 21.30 su youtube mi raccomando condividete questa notizia su facebook invitate tutti i vostri amici sarà una serata veramente divertente non manchiate ciao rockers a chiudere mi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio il sostegno a Mothafucka